E' il sogno di un bambino, è una scelta di cuore, è l'amore per la montagna, è sentirsi utili, è amicizia, è solidarietà, è aiutare gli altri. L'impegno e la concentrazione di tutti determina il successo di un intervento. Pianificare è essenziale per organizzare e coordinare ogni operazione in completa sicurezza. Nulla va lasciato al caso. In montagna serve la giusta preparazione. Occorrono competenze tecniche e un addestramento continuo. Il lavoro di squadra è l'anima di ogni missione. Allenamento, preparazione, sacrificio, studio del territorio. Servono prontezza, istinto, abilità. Vanno prese decisioni veloci. Il tempo è un fattore fondamentale. Soccorso alpino e speleologico. Esserci è la nostra missione. Non ci sono un fattore fondamentale. Scriviti al nostro canale. No.